Abbiamo cellule e cellule. Oltre 100 miliardi di cellule, dicono. Tutte queste cellule sono essenzialmente programmate e sai, orientate alla salute, alla sopravvivenza soprattutto, la loro sopravvivenza individuale e la sopravvivenza dell'organismo. Alcune di loro prendono delle scorciatoie. Vogliono sopravvivere a discapito delle altre. È crimine, sai? Quindi c'è un borseggiatore. Qual è il suo business? Ciò che tu hai messo un mese a guadagnare, lui lo vuole prendere in un giorno. Ma fa anche parte della società finché non viene preso, va bene? Ora, se tutti i borseggiatori del paese si riunissero e venissero a Delhi, ora le tasche di tutti verrebbero svuotate perché ora è una cosa organizzata. Quindi ora ciò che chiami cancro è semplicemente questo. Nel corpo di ciascuno ci sono delle cellule cancerose. Quando si organizzano e si focalizzano in un posto, allora diventa un problema serio, al punto che può toglierti la vita. Qual è la soluzione? Ci sono molte cose da dire. Prima di tutto, il crimine prospera dove non c'è ordine nel sistema. Sì? I criminali nella società prospereranno se le forze di polizia non sono in ordine. Quindi c'è un meccanismo di difesa nel nostro sistema. Lo stiamo tenendo bene. Lo bombardiamo con ogni tipo di stimolanti, intossicanti, ogni cosa e poi ci aspettiamo che il nostro meccanismo di difesa funzioni. Non funzionerà così. Dobbiamo capire ogni stimolante e ogni intossicante che consumiamo in qualche modo intacca il nostro meccanismo di difesa. La gente pensa che il meccanismo di difesa sia solo per le infezioni esterne. No. Anche per contenere i criminali interni nel corpo, il meccanismo di difesa lavora. Quindi una cosa semplice è, sai, nel sistema iogico, questa è una logica semplice, queste cellule cancerose nel nostro corpo consumano di solito circa 27-28 volte più cibo delle cellule normali. Quindi se distanzi i tuoi pasti, uno spazio ideale tra un pasto e il successivo nella cultura iogica è dalle 8 alle 12 ore. Se distanzi i tuoi pasti di 8 ore, vedrai le cellule cancerose moriranno tutte da sé perché non possono sopravvivere senza cibo. Altre cellule sopravviveranno. Quindi lo abbiamo sempre fissato. La mattina un pasto, la sera un pasto, niente cibo nel frattempo. E una volta ogni tanto, ogni mese, due volte al mese, una volta al mese, le persone praticano un giorno intero senza cibo. Sono modi semplici per controllare questo. A parte questo, ci sono diverse altre cose. Soprattutto se la tua mente e il tuo corpo si trovano in un certo agio, queste cellule non sopravviveranno. Se la tua mente e il tuo corpo si trovano in un certo senso di conflitto, allora esse sopravviveranno e non solo sopravviveranno, prospereranno. Se la società è in conflitto, i crimini organizzati aumentano. Se la società è in ordine, molto poco crimine accade. Lo stesso è vero con la nostra struttura fisiologica.